Bella ragazzi prima del video mi raccomando non dimenticate di fare un salto nel primo link in descrizione quello di instant gaming ragazzi dove troverete tra le altre cose un sacco di ricariche per l'xbox e gli abbonamenti a prezzi super super scontati buon video bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi parliamo della missione una delle più interessanti di questa settimana numero 7 quella che ci chiede di visitare i 7 diversi posti di spedizione adesso io non so bene in italiano come si dica quindi ragazzi non perdiamoci andiamo subito a vederli molto velocemente vi ricordo intanto un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e non dimenticate di attivare la campanella il primo ragazzi è qua davanti a noi sappiamo benissimo dov'è nella montagna alta di parco pacifico basta semplicemente che ci avviciniamo atteriamo e il primo posto è fatto location numero 2 si trova tra il parco pacifico e il campo da calcio quello coperto eccolo qua ragazzi tra le due montagne lo riconosciamo benissimo ci sono ben tre zipline che partono da qui basterà semplicemente avvicinarsi e la location numero 2 sarà visitata la posizione numero 3 invece ragazzi dovremo raggiungere corso commercio lasciarlo alla nostra destra e come vedete nella montagnola che c'è appunto tra corso commercio e il boh dove ci sono tutti i camper la città dei camper troveremo la terza location che ci interessa ci atteriamo posizione numero 3 fatta posizione numero 4 ragazzi si trova tra tempio tomato e passatempi una bella parte di connessione che come vedete ha ben 4 zipline che ti possono portare praticamente in un sacco di posti molto velocemente ci sono se siete fortunati anche tre aerei ci atterriamo sopra e avamposto numero 4 fatto la posizione numero 5 invece bisogna andare nella montagna tra il nostro sprofondo stantio e pinnacoli pendenti lo ricordiamo tutti ragazzi un altro punto molto interessante della mappa che racchiude al suo interno il nostro avamposto vi ricordo ragazzi mentre atterriamo che ogni avamposto potenzialmente agli areoplani quindi se seguite questa mappa potete anche fare la missione in un unico singolo game avamposto numero 5 fatto la posizione numero 6 invece penultimo avamposto dobbiamo andare nel deserto per la precisione dobbiamo lasciarci lande letali alle spalle e raggiungere il punto che c'è tra lande e palmetto paradisiaco eccolo qua ragazzi avamposto numero 6 fatto quello che riguarda invece l'ultima posizione ragazzi bisogna andare nella montagna vicino a borgo allegro eccola qua ragazzi tra le fabbriche e borgo allegro ostrega io sono atterrato leggermente basso perché vi stavo facendo vedere la mappa comunque ragazzi mentre il nostro leviatano lo raggiunge vi voglio ringraziare per avere guardato questo video eccolo qua davanti infatti mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi in tantissimi al canale noi ci vediamo presto ciao non parte mai l'altro non parte